buonasera a tutte e tutti e tutto benvenuti ancora una volta al park nord dello stadio ganio qui dallo sharewood festival diamo anche il benvenuto a chi ci ascolta su sharewood.it e stasera anche per la seconda volta avevamo già avuto un primo assaggio durante la giornata delle manifestazioni contro il G20 a Venezia anche su gemininetwork.it oggi infatti è una giornata che come radio sharewood organizziamo in collaborazione con Gemini Network dopo questo appuntamento che adesso andrò brevemente a presentare infatti ci sarà un altro momento sempre a cura di Gemini dal titolo diritti d'autore e proprietà intellettuale quale libertà per la comunicazione indipendente adesso invece continuiamo il nostro trittico che abbiamo inaugurato ieri su Genova e su quella che è stata 20 anni fa l'esperienza di Genova e lo facciamo con un dibattito momento di confronto dal titolo Genova 20 anni dopo il ruolo delle radio di movimento durante e dopo il G8 con me infatti sono presenti qui in studio Sgab di Radio Sonar, Carmen di Radio Sherwood, Michele di Radio Onda d'Urto e abbiamo in collegamento Dario di Radio Ciroma prima di iniziare io vorrei un attimino anche collegarmi rispetto alla conclusione del dibattito di ieri alle parole pompose che Antonio ha declamato a fine dibattito è fondamentale in una giornata come oggi intanto ricordare Carlo oggi è il giorno in cui appunto ricorre l'uccisione di Carlo Giuliani ma non dobbiamo e non possiamo soltanto ricordare quella che è stata sicuramente la perdita più importante dobbiamo necessariamente ricordare chi in quei giorni è stato pestato e massacrato e dobbiamo ricordare anche chi ancora è in galera perché paga quella che è stata l'esperienza di Genova però mi piace iniziare anche con della positività in questi giorni abbiamo letto, ascoltato, visto tantissimo su quella che è stata l'esperienza di Genova e noi qui dai microfoni di Radio Sherwood e di Gemini Network vogliamo sottolineare come nessuno di noi si sente sconfitto come nessuno di noi ha un rimorso su quella che è stata l'esperienza di Genova c'eravamo nelle piazze, nelle strade, eravamo a Genova ci siamo stati dopo Genova, ci siamo ancora oggi siamo stati nelle calli veneziane a manifestare contro chi ancora decide di chiudersi all'interno dei palazzi per decidere, per portare avanti politiche che poi fondamentalmente vanno a scaturire e a cambiare quelle che sono le nostre vite e ci saremo, ci saremo perché ancora c'è tanto da lottare sicuramente Genova da un punto di vista comunicativo ha segnato un momento centrale possiamo affermare che a Genova è nato il mediattivismo in quei giorni, nei giorni di Genova, nei giorni precedenti a Genova c'è stata una forte volontà di riappropriarsi delle parole e soprattutto di riappropriarsi dei mezzi che servono per veicolare queste parole fino a Genova il livello nazionale che raccontava i movimenti che ha raccontato i movimenti che hanno attraversato l'Italia hanno avuto una comunicazione quasi verticale il mainstream dall'alto ci raccontava quello che succedeva ci raccontava le tante esperienze di movimento che dagli anni 60 in poi si sono susseguite nel nostro paese ma ce lo raccontava come voleva appunto il mainstream le radio di movimento a Genova invece hanno raccontato ciò che succedeva prima di quelle giornate nei territori e ci hanno raccontato dall'interno quello che è successo in quelle giornate a Genova ci hanno raccontato le grandi manifestazioni moltitudinarie ci hanno raccontato la repressione che c'è stata in quei giorni e appunto mi viene da dire che è stato fondamentale tutto il lavoro che è stato fatto successivamente ai giorni di Genova in cui il grosso e grande lavoro di inchiesta fatto dalle radio di movimento nei giorni successivi, nelle settimane successive ci ha raccontato un qualcosa di diverso che la comunicazione mainstream ci ha raccontato di quei giorni fino all'11 settembre, momento in cui ieri abbiamo detto più volte viene accantonato quello che è successo fondamentalmente a Genova la comunicazione mainstream ci ha raccontato Genova in un binomio di violenza tra quella che era la violenza dei cosiddetti black bloc e la violenza invece della polizia, del braccio armato dello Stato ma fortunatamente c'è chi in quei giorni ci ha raccontato tutta quella che è stata la complessità di quel movimento è appunto grazie alle radio di movimento che si riesce e si è riusciti a raccontare un'altra storia e poi vedremo anche nel corso della serata non soltanto di raccontarla in quei momenti ma di riuscire a raccontarla anche oggi alle nuove generazioni il mainstream si sveglia soltanto quando ci sono eventi come dire, importanti come quello di un ventennale noi abbiamo raccontato sempre quella storia abbiamo raccontato sempre quella che è la nostra storia io adesso già sono andato molto molto lungo nell'introduzione e vorrei far parlare quelle esperienze che a Genova c'erano che da Genova hanno trovato quella linfa per iniziare le loro esperienze partirei dalla radio più a sud che a Genova era presente con noi collegato Dario di Radio C-Roma quindi ti chiederei subito Dario qual è stata l'esperienza di C-Roma Genova e qual è il ruolo di una radio come Radio C-Roma all'interno del movimento No Global e delle giornate di Genova un caro saluto e un abbraccio a Radio Sherwood e a tutti voi sono molto contento di essere qui con voi oggi e sono molto contento che ci sia lo Sherwood Festival io ho avuto l'onore di stare anche su quel palco anche se siamo a centinaia di chilometri di distanza e sapervi lì è molto bello quindi un abbraccio davvero di cuore a tutti quanti da Cosenza io sono Dario, vi parlo da Radio C-Roma una radio comunitaria che ha compiuto 31 anni qui nel centro storico di Cosenza che dire, rispetto alla giornata di oggi e al rimettere in circolo tutti questi ragionamenti e queste memorie la cosa che mi salta subito davanti è che noi abbiamo io in particolare ho vissuto le giornate di Genova non ero presente a Genova in quei giorni le ho vissute attraverso i racconti della radio attraverso i racconti di C-Roma attraverso il circuito di Radio Gap che nacque proprio per quell'occasione la rete di radio comunitarie che si mobilitò per seguire quelle giornate e come dire già ovviamente dalle settimane prima con approfondimento abbiamo seguito anche i lavori della Cosenza Social Forum abbiamo partecipato alla costruzione di quelle giornate ed eravamo anche in un momento della vita della radio molto particolare perché ci eravamo trasferiti da poco in questa sede quindi eravamo tornati nel centro storico di Cosenza quindi l'esperienza di Radio Gap si sommava ad un entusiasmo ad un'energia palpabile quello che ci aspettavamo sicuramente che quella di Genova sarebbe stata una piazza importante non ci aspettavamo quanto sarebbe stata determinante per tutti quanti noi per le nostre vite e anche quanto poi avrebbe cambiato il senso di quello che stavamo facendo quelle giornate in particolare appunto io le ricordo molto più per l'ascolto e le ricordo anche per come dire per la voglia di informarsi quindi ricordo che la sede di Ciroma era diventata alla fine un nodo non soltanto di Radio Gap ma anche un centro di informazione per cui al di là delle trasmissioni al di là degli approfondimenti la gente passava da qui e telefonava in radio per avere notizie e per sia come dire per confrontarle con quello che i media nazionali stavano trasmettendo l'altra cosa che ricordo è appunto la distanza siderale fra il racconto istituzionale il racconto dei media mainstream e invece la piazza di Genova per come l'abbiamo vissuta vissuta noi e cosa dire beh sicuramente è stato un momento in cui le radio comunitarie hanno hanno messo ancora una volta alla prova la loro la loro capacità di raccontare un momento così critico e così anche delicato come come sono state le giornate di Genova e secondo me a distanza di di vent'anni noi possiamo dire che quello che sembrava anche dal punto di vista tecnico quello che sembrava farci farci vedere nel passato l'irruzione per esempio delle immagini e la la quantità infinita di video prodotti in in quei giorni per le strade di di Genova a distanza di vent'anni la radio mantiene una capacità che non è soltanto quella di testimoniare di documentare ma è anche quella soprattutto di 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 analizzare di osservare con con più calma e di di creare relazioni ecco questa cosa qui la 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 voglio sottolineare durante le giornate del G8 tutti erano sia testimoni sia manifestanti sia anche corrispondenti quindi arrivavano telefonate spontanee di persone per 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 dare indicazioni logistiche oppure per per raccontare la loro visione dei fatti beh questo questo è quello che quello che ricordo un appunto essere travolti da 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 qualcosa che non ci aspettavamo accadesse con con tale violenza e con tanta ferocia e anche i giorni successivi le settimane dopo la radio ebbe anche una funzione di di collante e anche per razionalizzare anche per cercare di di superare quel quel momento così così drammatico quel momento così così drammatico grazie grazie Dario per il il tuo contributo parte un applauso qui dal dallo Sherwood Festival continuiamo con col giro di domande chiederei a Sgab di Radio Sonar realtà che a Genova non c'era perché come radio perché ancora doveva nascere ma tante e tanti di dei componenti degli attivisti che oggi animano e hanno fatto nascere Radio Sonar invece erano erano presenti erano presenti a Genova quindi ti chiederei quanto l'esperienza di Genova da un punto di vista proprio di di piazza ma anche l'esperienza di Genova da un punto di vista comunicativo è stato importante ed è servito per per decidere di mettersi in cammino con l'esperienza di una di una radio come Radio Sonar ma prima di tutto mentre mi sono messo a sedere qua in Portrana ho realizzato che l'ultimo festival a cui sono stato due anni fa prima della pandemia era lo Sherwood il primo festival che rifaccio in pandemia è lo Sherwood quindi faccio i complimenti a tutti a tutti a tutto perché non è ne parlavamo anche prima con Francesca non è facile fare un festival con il clima e le condizioni in cui siamo oggi in Italia e nel resto del mondo detto questo per me è un onore e mi sto mangiando anche dall'ansia da circa una settimana da quando ci siamo sentiti con Antonio per l'invito ad oggi perché quanto è stato fondamentale tutto cioè ieri sera ricordavo agli amici e amiche che stanno dentro la Radio Sonar che è un gruppo che comunque si è riformato negli anni soprattutto anche negli ultimi due anni che comunque anche l'ultima persona cioè l'ultima persona che si sente più che si sente molto distante da Genova e da tutto quello che riguarda Genova prima e dopo perché si parla sempre di Genova però siamo arrivati a Genova perché c'era una storia precedente e poi c'è stata secondo me in maniera molto importante gli ultimi vent'anni non è vero che non è successo nulla in vent'anni ma è successo tanto tendente al tutto ok tante cose che sono state dette a Genova in malo modo dal mainstream io mentre venivo su a Padova mentre pensavo in questi giorni ho un'immagine non ero a Genova ci volevo andare banalmente è stato a mio babbo e a mia mamma che mi hanno detto no non andare perché è pericoloso ok e anche perché avevamo una visione io chiaramente avevo se non mi sbaglio 19 anni quindi ero nel pieno della gioventù dell'esplosione sentivo non ho mai avuto una formazione politica tradizionale come possano aver avuto altri odio le ingiustizie nel mondo e questo è bastato avanzato per abbracciare i movimenti che hanno animato gli ultimi vent'anni da Genova in poi questa cosa qua è stato tutto io mentre venivo qua mi ricordo delle immagini date dal Tg2 poi che all'epoca magari ancora qualche cosina un po' marcava abbastanza bene oggi il Tg2 lasciamolo perdere perché è diventato un abominio di telegiornale e a un certo punto ho deciso di fare una cosa ho scoperto che c'erano tutte le radio dei compagni che erano presenti a Genova che si erano racchiuse dentro un acronimo che era Radio Gap e raccontavano allora ho lasciato le immagini della televisione ma sono riuscito a accendere visto che c'erano anche le prime sperimentazioni di streaming audio chiaramente si parla di un'epoca in cui c'era il 56k non c'era la fibra ottica il 4G il 5 il 7 ma c'era il 56k su Global su Dynamo su Radio Onda Durto è stato scritto anche in questi giorni e detto delle difficoltà tecnologiche che c'erano all'epoca però appunto è stato fatto un grandissimo lavoro un lavoro importante audiovisivo prima i podcast banalmente venivano chiamate registrazioni audio lasciate un po' lì però poi in realtà anche in fase processuale non solo per quanto riguarda Genova ma anche per altri fatti anche una semplice registrazione audio può salvare dalla galera un compagno o una compagna quindi uno degli obiettivi nostri è stato quello di raccontare di provare a raccontare la politica attraverso lo strumento della web radio non abbiamo mai avuto un FM a un certo punto l'abbiamo dichiarata superata forse prima dell'epoca in cui dieci anni fa Sherwood stessa ha fatto la scelta di dichiarare lo strumento FM superato e lì è stato visto l'immaginario che è oggi la web radio il podcast lo streaming audio e video ed è stato fatto un investimento sul media attivismo Global Project a me mi ha detto dieci anni fa le prime ho sentito per la prima volta la parola transmedialità e mi diceva che vuol dire vuol dire quello che è oggi la comunicazione audiovisiva e testuale che viene prodotta e raccontata per dare l'informazione vera io ho sempre odiato personalmente il termine della controinformazione non fai controinformazione stai facendo informazione se uno ha voglia di guardare solo amici o qualcos'altro lo facesse se uno ha voglia di fare informazione grazie a internet hai la possibilità di sentire veramente tantissime voci e quindi è stato tutto è stato lungimirante lo dico ho la fortuna di dirlo mi piacque molto la cosa di Radio Gap non ho mai capito perché sia stato chiuso quell'esperienza là però è stata un'intuizione che poi ci siamo detti con alcuni proviamo a fare un network radiofonico ma è già stato fatto lo proviamo a fare basandoci anche Gemini Gemini Network personalmente la vedo è un po' una bella copia dell'esperimento di Radio Gap magari era un esperimento per qualche giorno io spero che Gemini come network radiofonico possa andare avanti per tantissimi anni e non abbia mai una fine o al massimo possa cambiare pelle in base al bisogno non etica ma pelle grazie Sgab che ha già anche un po' introdotto quello che saranno i temi del secondo giro di domande parlerei adesso con Michele di Radio Onda Durto che è stata sicuramente una radio protagonista di quei giorni a Genova una radio che già veniva da un'esperienza forte di radio di movimento quindi ti chiederei quella che è stata appunto l'esperienza anche in base a quello che ha detto Dario di Ciroma che faceva parte di Gap come radioonda d'urto di quell'esperienza appunto di Genova sì allora innanzitutto grazie dell'invito e premetto che per motivi anagrafici io a Genova non ero presente però nel riportato dell'esperienza di compagni e compagni che invece hanno partecipato a quelle giornate direi che appunto per Radio Onda Durto per quanto riguarda quindi la radio Genova 2001 è stata l'esperienza di Radio Gap Global Audio Project che è già stata menzionata nella quale hanno partecipato come dicevi Radio Ciroma Radio Onda Durto Radio Onda Rossa di Roma Radio Città Fugico di Bologna e il progetto Amisnet facevano parte di questo progetto radiofonico per quelle giornate se non mi sbaglio Radio Cirvood aveva un altro piano nel Media Center ed era a sé e lasciamo l'intervento poi spiegare comunque no perché c'era il Media Center che era la scuola dall'altra parte della strada rispetto alla Diaz in cui c'era Media Center e c'era bisogna ricordare anche un piano riservato a Indymedia c'era Radio Cirvood e c'era Radio Gap in questo edificio la prima cosa che mi preme riportare è che in quei giorni è successa una cosa come giustamente veniva detto non c'erano i social network non c'era la capacità di comunicazione immediata che c'è oggi e tutte le compagnie e i compagni mi dicono sempre noi abbiamo raccolto anche queste esperienze in un libro che abbiamo scritto nel 2015 in occasione dei 30 anni di Radio Onda d'Urto con un po' la storia della radio quindi c'è ovviamente anche un capitolo dedicato all'esperienza di Radio Gap avendo avuto la fortuna di lavorare a questa stesura a questo volume quello che salta chiaramente fuori come valore di quell'esperienza è che senza i mezzi che esistono oggi la connessione di tutti quei mediattivisti e redattori e redattrici di queste esperienze di informazione da tutta Italia ha fatto in modo che le persone potessero effettivamente sapere giorno per giorno in tempo reale cosa stava accadendo a Genova dove era meglio arrivare se si stava arrivando in quel momento in quella data via in quella data strada cosa stava succedendo dove era la manifestazione o la piazza tematica che si poteva o si doveva raggiungere in quel momento quindi un ruolo di servizio molto importante con una capacità per l'epoca anche impressionante visto le mancanze c'erano difficoltà tecnologiche però va anche detto che mentre oggi ci troviamo giustamente a rincorrere l'evoluzione dei media dei social media delle tecnologie all'epoca i movimenti sociali legati ai centri sociali le radio di movimento invece e anche in di media stesso oltre che ai progetti della radio ne erano testimonianze erano molto avanti da un punto di vista della ricerca della conoscenza tecnologica radio onda d'urto penso anche Radio Cervo e altri radio di movimento avevano partecipato negli anni 90 per esempio alla nascita degli ECN delle prime esperienze di comunicazione effettivamente via web per cui si veniva anche da anni di sperimentazione importante da questo punto di vista io all'interno di Radio Gap poi per quanto riguarda nello specifico radio onda d'urto vorrei segnalare che sicuramente per la nostra radio è stata un po' una conferma del fatto che la direzione che era già stata presa negli anni 90 ovvero quella anche di una professionalizzazione della redazione era una scelta interessante e da seguire perché all'interno di Radio Gap questo ha fatto in modo che radio onda d'urto avesse redattori sia a Genova che in sede a Brescia ovviamente veniva switchato il segnale con i ponti radio all'epoca quindi nelle prime giornate praticamente veniva mandato in onda il giornale radio di radio onda d'urto ovviamente non lo cazzo cioè il giornale radio comprende notizie anche nazionali e internazionali in modo tale che Radio Gap avesse pure quello e soltanto nei giorni successivi si sia riusciti a organizzare perché anche su Radio Gap oltre che raccontare le manifestazioni ci fossero anche momenti informativi più più complessivi e ovviamente si è riusciti a dare una buona copertura sulle sulle corrispondenze delle varie piazze che invece come veniva detto prima da Dario di Ciroma a questo partecipavano redattrici e redattori di tutte le radio ma non solo partecipava chiunque fosse in piazza che sapeva dell'esistenza di Radio Gap e quindi si metteva a disposizione nonostante non fosse nessuna di queste redazioni per dare informazioni ultima cosa in questi giorni naturalmente stiamo sia seguendo le iniziative con degli inviati soprattutto oggi a Genova ma per esempio questa mattina ieri mattina ascoltavo in redazione mentre mandavamo in onda gli audio di Radio Gap gli audio storici dell'epoca e veramente questa esperienza effettivamente permesso di coprire non soltanto quelle giornate ma per esempio abbiamo dato degli audio dei funerali di Carlo quindi i giorni successivi interviste dei suoi amici e quant'altro e l'ultima anche l'audio del momento dell'irruzione alla scuola Diaz che fu in realtà anche il momento di un'irruzione nel media center davanti alla scuola Diaz non tanto per fare lo stesso macello la stessa macelleria della scuola Diaz ma proprio per impedire che i mediattivisti e le mediattiviste all'interno della scuola Diaz potessero capire cosa stesse accadendo proprio in quel momento nell'edificio davanti ed è importante che c'è proprio un audio di un compagno di Brescia e un altro non mi ricordo sinceramente di che radio che componeva Radio Gap che in quel momento erano in studio e comunque solo il fatto che ci fosse un mixer di microfoni una diretta in corso ha impedito che comunque diciamo ci sono gli audio che originali ha impedito che succedesse altro però per dire anche l'importanza e il seguito che avevano i progetti che erano all'interno del media center la polizia aveva proprio bloccato nel momento in cui c'era l'irruzione della scuola Diaz quel palazzo perché sapeva che sennò tutto quanto sarebbe stato raccontato praticamente in diretta grazie Michele che tra l'altro ormai è nostro ospite fisso dai microfoni di Radio Sherwood passerei la parola a Carmen che a Genova c'era e che a Genova insieme ad altre compagni ha portato anche avanti un'esperienza diversa di raccontare utilizzando anche tecnologie nuove quelle che sono state appunto le giornate di Genova Sherwood arrivava già da un'esperienza più che ventennale quest'anno sono i 45 anni di Radio Sherwood abbiamo deciso vedete qui un po' di gadget che rappresentano il neonato centro studi open memory abbiamo appunto proprio deciso di iniziare anche a mettere in comune a studiare soprattutto a diffondere per le nuove generazioni quella che non soltanto è stata la storia di Radio Sherwood ma quella che è stata la storia dei movimenti dell'intero paese ti lascerei la parola chiedendoti di raccontare un po' quella che è stata l'esperienza di Sherwood allora questa sera sembra che fisicamente presenti a Genova ci fossi solo io anche in questo caso anche nel mio caso per motivi anagrafici ma diversi da quelli di qualcun altro allora ovviamente in questi giorni noi stiamo vedendo tantissima produzione tantissima roba scritta tantissime interviste contributi eccetera di cui una parte li abbiamo anche presentati qui nei giorni scorsi su quello che è stato Genova perché Genova è stata una cosa talmente grande talmente importante e che ovviamente ha visto la necessità ancora vent'anni dopo da parte di tantissimi e tantissime di scriverne di parlarne di portare testimonianze eccetera allora per noi per parafrasare una celebre canzone Genova per noi comincia da qua comincia dal posto in cui siamo adesso come diceva anche Davide all'inizio per noi è sempre stata una continuità non è stata una sconfitta non c'è stata nessuna fine noi nel 2001 finiamo quel festival il festival che vent'anni dopo pur dentro una pandemia come ricordavi anche tu pur dentro tantissime difficoltà è ancora qui è un punto di riferimento è un posto dove si fa socialità dove si fa cultura dove soprattutto si cerca anche di fare di fare politica partiamo da qui finiamo il festival i primi di luglio del 2001 come si dice prendiamo armi e bagagli e andiamo a Genova e ci andiamo allo stadio Carlini Carlini il grande laboratorio di discussione di produzione di tantissime cose che viene ricordato dai tantissimi e tantissime che lo hanno vissuto in quel periodo il Carlini che ci vede anche dentro come radio ma anche soprattutto come esperienza politica quando noi arriviamo a Genova come Sherwood siamo già una radio che esiste da 25 anni e la caratteristica nostra che è la diversità né migliore né peggiore di altri è la nostra storia la nostra caratteristica e che noi siamo e siamo sempre stati una radio quindi un organismo che fa informazione che cerca di produrre che si inserisce in tanti contesti ma noi siamo sempre stati anche la radio che promuove campagne che fa politica che è stata dentro i movimenti che hanno preceduto Genova e che arriva a Genova con alle spalle un'attività politica che è anche caratteristica di questo territorio noi veniamo dall'esperienza di autonomia di autonomia veneta per cui già questo è un qualcosa che ci caratterizzava molto in quegli anni in quei decenni precedenti a Genova noi abbiamo fatto tantissime cose siamo stati dentro a tantissime realtà e i primi movimenti antinucleari e intimperialisti tantissime iniziative sull'internazionalismo tantissime cose su quello che era l'abbozzo di quella che poi sarebbe stata la tematica ambientale che vediamo oggi oramai quanta importanza ha appunto con i cambiamenti climatici e quello che sta succedendo tutte le tematiche che due sabati fa abbiamo anche riportato a Venezia per cui la nostra scelta all'epoca di non essere dentro l'esperienza di Radio Gap deriva da una diversità noi avevamo dei percorsi politici che ci avevano portato a Genova in maniera differente non migliore o peggiore ripeto ma differente e diversa da quella che invece ha portato altre radio che hanno sentito il bisogno la necessità la loro scelta di stare dentro questa esperienza comune comunitaria che è stata questa di Radio Gap noi abbiamo scelto di essere presenti in un altro modo come dicevo all'inizio perché la storia ovviamente sarebbe molto lunga e le sottigliezze anche ma non penso che sia questo l'ambito il momento di cui parlarne noi appunto dal Carlini mentre si sta costruendo quelle che saranno poi le giornate le giornate di Genova e facciamo anche la scelta di essere la radio che si ascolta e quindi anche per noi questi erano i primi i primi anni in cui la nuova tecnologia ci permettevano degli strumenti da poter usare che fino a poco tempo prima non c'erano e che quegli strumenti come anche ha detto chi mi ha preceduto che poi hanno consentito i mille occhi di Genova come poi è stato detto ci ha consentito a tutti e tutte di poter testimoniare in prima persona proprio mentre accadeva quello che stava appunto succedendo impedendo che poi ci fosse la narrazione unica come quella che era stata tante volte nei decenni precedenti su quanto iniziava su quanto accadeva nelle piazze che quasi esclusivamente vedeva poi come la raccontava la polizia come la raccontavano i media dell'epoca la televisione dell'epoca e Genova come si è detto è stato proprio la prima fase il cambiamento la nascita dei mediattivisti e delle mediattiviste con tutte le cose importanti che poi da un punto di vista appunto mediatico sono state prodotte la nostra scelta partendo quel giorno dal Carlini come radio è stata appunto quella di essere la radio che racconta che parla con tantissime di noi in giro per la città per testimoniare e raccontare quanto succedeva ma noi volevamo essere anche la radio che si vede nel senso che noi partiamo dal Carlini con un tir scoperto con tutta la strumentazione radio che all'epoca era consentito portare in giro con una mega antenna in modo da poter seguire in modo da essere dentro il corteo perché il il camio il tir era in mezzo il corteo che esce dal Carlini era tutto attorno era un corteo che ovviamente si era dotato di strumenti anche di autodifesa come che poi abbiamo visto sono serviti fino a un certo punto ma comunque era sono stati anche importanti e abbiamo avuto la possibilità in questo modo di farci sentire di farci anche vedere di poter essere un punto di riferimento per tanti compagni e compagni anche di altre componenti che erano il corteo e che magari hanno avuto anche modo di spostarsi di evitare non sempre purtroppo ma di evitare anche di essere fermati arrestati eccetera eccetera ecco questa è stata anche appunto la come dire la nostra caratteristica dentro Genova la nostra anche particolarità insomma di voler essere anche visibili in questo modo come mi è capitato anche di dire in altre occasioni come questa la nostra scelta di essere uno spezzone importante sia il giorno in cui poi c'è la morte di Carlo ma anche e soprattutto il giorno successivo è stata quella è stata dovuta al fatto che noi siamo arrivati a Genova appunto come radio e come esperienza politica complessiva purtroppo ben consapevoli che avremmo trovato un terreno difficile e difficoltoso certo poi nessuno si aspettava la mattanza che ne è susseguita però la scelta appunto di dotarci anche di strumenti di difesa ha impedito che poi incorressimo in problemi di ben altro tipo Genova è stato anche uno shock sicuramente anche per tutti noi però è stata anche l'occasione per poter dimostrare che tantissime cose del percorso che ci aveva portato a Genova ricordiamo nessuno di noi neanche chi mi ha preceduto arriva a Genova quel giorno e comincia a fare informazione comincia a dire delle cose Genova è stata preparata da mesi e mesi di iniziative come movimento delle tutte bianche sono state fatte delle iniziative portanti anche a Genova nelle settimane precedenti eravamo presenti alla manifestazione dei migranti che c'era stata il giovedì precedente eccetera per cui l'esperienza la nostra esperienza radiofonica viene da un percorso di iniziative fatte fa le giornate di Genova e denuncia e parla di quanto sta succedendo e nelle giornate e nei mesi e negli anni successivi continua a fare un percorso di controinformazione perché a Genova abbiamo visto delle cose aberranti tipo l'uso dei gas CS sulle persone quando quel tipo di gas dovrebbero essere usati tralasciamo discorsi soltanto in zone di guerra in contesti ben precisi mentre sono stati usati per reprimere il corteo per sparati contro le persone con le mani in alto eccetera eccetera quel tipo di gas ha provocato dei problemi fisici a tante persone noi per mesi abbiamo fatto una controinchiesta sull'uso dei CS abbiamo fatto per mesi la controinchiesta sulla morte di Carlo producendo appunto grazie a queste nuove tecnologie immagini contributi testimonianze abbiamo seguito per mesi e anche purtroppo per anni le varie fasi del processo del processo agli attivisti fermati ed arrestati concludo dicendo che quella notte tremenda appunto eravamo a pochi metri dalla scuola Diaz eravamo lì abbiamo potuto vedere con i nostri occhi quello che stava succedendo abbiamo trasmesso per 48 ore e anzi di più quello che vedevamo quello che era successo abbiamo raccolto le prime testimonianze che era possibile avere dai massacrati dentro la Diaz e come dire abbiamo fatto quanto era nelle nostre possibile con i mezzi che c'erano allora perché Genova appunto non restasse una narrazione solo di alcuni sappiamo bene l'abbiamo detto tante volte come l'avrebbero raccontata ma per continuare a raccontarla successivamente se siamo ancora qui oggi vent'anni dopo a parlare a parlare di Genova è perché nel frattempo Genova non è mai finita completamente qualcuno sta dicendo anche molto in questo periodo sui giornali che l'Italia i partiti la società non ha ancora fatto i conti con Genova i conti con Genova non si faranno mai perché quei conti sono sempre aperti purtroppo il massacro che abbiamo visto di persone inermi a Genova parte del corteo pacifista parte tutto lo spezzone delle persone che si rifacevano le organizzazioni cattoliche eccetera eccetera e con la mattanza di quelle persone là è un percorso che purtroppo poi abbiamo visto anche negli anni e nei decenni successivi ed è non è azzardato dire che quella stessa polizia quegli stessi apparati dello Stato quegli stessi apparati repressivi dello Stato del governo delle banche chiamiamolo appunto come vogliamo è anche il percorso che porta a cose recenti che abbiamo viste i pestaggi dentro il carcere di Santa Maria Capoavetere sono un filo purtroppo comune che fa vedere quanto non sia cambiato poi molto e quanto ci sia tutt'oggi la necessità di continuare con quello che tutti noi stiamo facendo Grazie Carmen mi piace sottolineare come diceva giustamente Carmen in questi 20 anni non è cambiato tanto e l'esperienza anche delle radio di movimento non è cambiata anzi è cresciuta è cresciuta e si è evoluta anche utilizzando degli strumenti tecnici diversi oggi è l'epoca appunto del visuale dell'informazione online istantanea usa e getta con tutti i social network come diceva Sgab prima l'esplodere dei podcast ormai ritroviamo in tutti i quotidiani mainstream l'utilizzo di questo strumento ecco in questo secondo giro di domande a cui chiederei di essere anche un po' più più celeri anche perché questi sono argomenti davvero che avrebbero bisogno di tanto tempo per essere sviscerati e fortunatamente lo facciamo in varie occasioni lo stiamo facendo con il centro studi per esempio su tutta quella che è anche la raccolta di quella grandissima mole di materiale video che è stato prodotto in quel periodo e non solo lo facciamo con Gemini continuando a produrre dei momenti di approfondimento ecco in questo secondo giro chiederei appunto e partirei da Dario di Ciroma come in questi vent'anni il ruolo delle radio di movimento è cambiato e che cosa oggi vuol dire essere una radio di movimento piccolo problema probabilmente tecnico su Spans andiamo avanti eccoci ok Dario dicevo grazie per la domanda ma ovviamente non ho la risposta una cosa che mi sento di dire è questa sicuramente una cosa che probabilmente non abbiamo sottolineato abbastanza in questa in questa conversazione di oggi è quanto quella piazza quanto le nostre voci e quanto le urle e gli slogan che hanno attraversato Genova in questi giorni ci avessero visto lungo noi siamo qui a distanza di 20 anni alcune intuizioni alcune letture del presente sfiorano il profetico ok dicevamo che la globalizzazione avrebbe prodotto danni sociali e li stiamo vivendo sulla nostra sulla nostra pelle e ambientali e tutto il resto non ne parliamo affatto quindi un aspetto secondo me dovremmo dovremmo curare con maggiore attenzione la capacità di guardare il presente e raccontarlo d'accordissimo ma anche la capacità di immaginare il futuro per quanto mi riguarda la radio rimane un mezzo potentissimo perché prendere la parola attraverso la radio è di per sé un atto politico forse pure un programma musicale è un atto politico raccontare il mondo attraverso la radio non vuol dire soltanto ragionarci su ma vuol dire anche cambiarlo con le parole che si utilizzano quindi secondo me la radio rimane uno strumento potentissimo che a distanza di vent'anni da Genova ma decenni dalla sua invenzione comunque ancora mantiene quel potere e non non è mai obsoleto quindi sono arrivati tantissimi nuovi miti abbiamo abbiamo visto gli innesti che abbiamo avuto con con gli smartphone e con la cultura digitale cose che non non immaginavamo che però in qualche modo ci su cui avevamo già riflettuto ok se penso all'ultimo anno di pandemia ad esempio e penso alla la letteratura cyberpunk c'è 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 tanto da da andare a rispolverare ecco secondo me una cosa che potremmo fare è ricordarci questo che noi possiamo creare comunità le nostre radio singolarmente i network come Radio Gemini come Gemini Network che in questi è la la cosa più bella che secondo me è successa in questi in questi mesi lo testimoniano e oltre a creare comunità oltre a raccontarci abbiamo anche secondo me il dovere di avere delle visioni il dovere di spingere la realtà più in avanti e di immaginare quali potrebbero essere le questioni di domani e iniziare a viverle nel presente per cui prima si parlava di fare i conti non credo che il nostro sia un paese che faccia i conti con qualcosa questa cosa riguarda Genova riguarda gli anni settanta riguarda il fascismo l'Italia non fa i conti con il suo passato a pochi chilometri da me nel carcere di Rossano c'è imprigionato Cesare Battisti per un colpo di teatro rispolvera proprio una cosa che non ha nessun senso se non una vendetta cieca per cui l'Italia non fa i conti siamo noi a dover usare le nostre radio usare le nostre le nostre intelligenze per rimettere in circolo la memoria perché ricordiamolo appunto anche quella cosa lì si è rivelata sacrosanta è un ingranaggio collettivo da utilizzare sono storie da rimettere in circolo e da rimescolare e dobbiamo dobbiamo inventare dobbiamo inventare il futuro secondo me attraverso le nostre voci attraverso le nostre idee dobbiamo sforzarci di creare delle nuove visioni perché perché lo sappiamo fare fare grazie Dario parte l'applauso io ti ringrazio di essere stato in collegamento con noi so che devi scappare quindi ti saluto ci sentiamo presto un abbraccio da parte di tutte e tutti passerei adesso a Sgab Radio Sonar che nasce appunto post Genova e nasce subito come web radio come si inserisce all'interno di un mondo che cambia sia dal punto di vista dei movimenti ma che cambia anche dal punto di vista di fruizione di quelle che sono i media e di quelli che sono anche poi col passare degli anni i social network andando a occupare cioè a Roma quando ho portato il progetto della web radio giù con me a Roma siamo entrati nel mondo dei centri sociali occupati delle occupazioni abitative abbiamo praticato direttamente con i nostri corpi occupando negli ultimi dieci anni a Roma un bel po' di roba a San Giovanni abbiamo fatto un attimo un pezzettino di storia lo possiamo dire tra il Zampa Pecca era un piccolo centro sociale sgarupato di proprietà di Banca Italia che era nato sotto un'occupazione abitativa di Action quindi ci sono arrivato più o meno dopo lì dentro però attraverso la web radio si è trovato a confrontarsi con l'avvocato che rappresentava gli interessi a livello nazionale degli immobili di Banca Italia e li abbiamo messo sul piatto l'esperienza nostra cioè più di dieci quindici anni di attività di comunicazione né di più né di meno di aggregazione di comunità e non è un caso che una volta che hanno chiuso ci hanno chiuso quel posto là un po' la comunità reale quella viva che si respira dentro la radio Sherwood dentro la radio Onda d'Urto e dentro la radio C-Roma e tutte anche le altre radio e il network ma comunque sia tutte le radio e web radio comunitarie un pochino si è disgregata è rimasta chiaramente la virtualità che poi è esplosa all'interno della pandemia credo che abbiamo provato a raccontare gli ultimi dieci anni di cortei a Roma sapete benissimo che è una città molto complessa abbiamo guardando un po' studiando un po' come si muoveva e come si muove tutt'oggi Radio Onda d'Urto l'abbiamo presa un pochino come riferimento a un certo punto abbiamo deciso di non essere espressione diretta di un'area politica piuttosto che di un'altra ma di provare da spazio a più voci e diventare e facendo anche così abbiamo anche paradossalmente allargato molto di più il giro questa cosa è stata anche un po' una contraddizione all'interno perché a volte quello che diceva a sinistra era l'esatto opposto di quello che diceva a destra e all'interno dei movimenti romani questa cosa forse non è stata anche fin troppo ben vista però quindi la cosa di cui sono contento è stata un po' l'illuminazione non solo dettata dal faro ma dalle chiacchierate di stasera è che senza finanziamenti pubblici senza grandi autofinanziamenti perché non abbiamo mai avuto ma mettendoci pompando anche soldi di tasca propria e tanto sbattimento e lavoro gratuito come viene fatto anche da chi organizza queste robe qua l'abbiamo fatto se qualcuno volesse mandare a ritrovare un audio di una delle prime assemblee di non ha di meno di quando si è costituita non ha di meno molto probabilmente ci può stare all'interno dell'archivio di Radio Sonar facendo queste cose ad alcuni di noi gli è venuta proprio anche un po' la mania di iniziare ad archiviare tutto proprio magari andrebbero d'accordo con Davide e troviamo c'è tanta roba pensavamo a un certo punto leviamo tutto non l'abbiamo siamo tornati indietro su questi passi perché dalle statistiche abbiamo visto che la gente si va a riascoltare le cose che magari sono successe 4-5 anni fa dico ascoltare e non vedere che secondo me c'è una differenza molto importante non solo sullo strumento di comunicazione il video è immediato però se hai bisogno di approfondire ascoltare rimmaginare quindi rielaborare un tuo pensiero l'audio non supportato da immagine ti costringe a fare una cosa ti devi sedere o fai finta di ascoltare oppure ascoltare poi dopo farti un'idea e innescare processi vari e diversi magari prendendo anche altre tangenti quindi io continuerò a dire grazie ai movimenti e ai centri sociali occupati e gestiti che ci hanno dato la possibilità di esistere e abbiamo provato a dare una mano magari non serva a Roma ma serva a noi e quindi noi andremo avanti fino a che non ci sarà più bisogno o nessun modo di fare queste cose grazie passerei la parola a Michele l'esperienza di Radio Onda d'Urto dopo Genova è continuata e è continuata anche a mantenere per esempio una scelta di continuare ad essere in FM quindi a comunque continuare a raccontare quello che succede non soltanto nel vostro territorio ma in tutta Italia a chi vi ascolta nelle vostre zone ma sicuramente anche il passaggio di essere dentro a tutto quello che fondamentalmente accade in Italia e non solo con delle corrispondenze con anche l'utilizzo dello scritto quindi degli articoli vi ha caratterizzato in questo periodo come è stato diciamo l'evoluzione da Genova ad oggi e anche il futuro rispetto a tutto quello che sta cambiando anche nel fare radio come lo vedi sì ecco non solo noi abbiamo mantenuto l'FM ma noi rimaniamo tutt'oggi nonostante l'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione una radio prevalentemente in FM cioè una radio prevalentemente di flusso quella è la cosa che la redazione cura maggiormente perché dico di flusso non estetamente FM perché chiaramente come ovviamente oggi dal sito ovunque con interesse si può ascoltare comunque anche il flusso radiofonico in streaming io su questo ne parlava nel primo intervento il compagno di Radio Sonar e io su questo penso che legittimamente visto il processo che ha investito la televisione quindi la produzione video negli anni col digitale ma soprattutto ora con le piattaforme on demand diciamo così era legittimo penso pensare che questo processo potesse investire anche l'FM la realtà è che l'FM non è superato noi cioè alla radio non è successa la stessa cosa che è successo sta succedendo alla carta stampata alla televisione questo a noi lo dicono semplicemente i dati di ascolto che noi non tutti gli anni perché ha un costo però che noi periodicamente andiamo a richiedere sul nostro territorio e sui territori comunque un po' sparsi nel nord Italia in cui Radio Onda Durto si può ascoltare in FM perché la verità è che l'ascolto della radio come già veniva citato dell'audio in realtà ti permette anche di fare altre cose intanto quindi c'è anche questo aspetto quindi le persone in casa in automobile insomma la radio è effettivamente ancora ascoltata non mi dilungo sui dati d'ascolto perché giustamente si chiedeva di stringere però con questo voglio dire che la nostra scelta è stata basata soprattutto di questo e cito solamente l'evento dentro il quale ci troviamo speriamo non per molto ancora ovvero la pandemia e questo ci ha dimostrato che durante la pandemia migliaia di persone del nostro territorio ma anche di altri territori in streaming e questo ce lo dicevano i messaggi che ci arrivavano continuamente l'interazione che siamo riusciti a creare stavano attaccati alla radio e quindi la consapevolezza di dover investire sempre di più ancora di più su questo strumento ovviamente anche andando a indagare e a provare a utilizzare con la stessa potenza il strumento del podcast i social media e quant'altro quindi non ovviamente togliendo la parte la parte web però sicuramente ancora il palinsesto il flusso radiofonico eccetera regge rispetto alla carta stampata la televisione proprio per la sua caratteristica di compagnia di una certa intimità che si crea tra l'ascoltatrice e l'ascoltatore e chi sta dall'altra parte del microfono questo per quanto riguarda il funzionamento io penso che un'altra grande intuizione di quel movimento dei movimenti che arrivò a Genova di tutti gli anni 90 di fronte alle trasformazioni del neoliberismo dell'ultimo stato diciamo di sviluppo del capitalismo quando la comunicazione stava diventando sempre di più non solo propaganda ma terreno anche di estrazione di plus valore e quindi di profitto eccetera quei movimenti l'hanno capito e questa è stata un'intuizione fondamentale che la comunicazione sarebbe diventata sempre di più un se non il campo di battaglia su cui si giocavano anche le conflittualità politiche e sociali quindi io penso che oggi volevo dire sentivo prima delle difficoltà dell'autofinanziamento di queste cose noi prendiamo finanziamenti pubblici abbiamo una redazione dall'inizio degli anni 90 è sempre più numerosa stipendiata anche un sacco di volontari e volontari non è che c'è solo la redazione rimane un'esperienza di comunità e di radio comunitaria però io penso che dobbiamo cercare di prendere più finanziamenti pubblici dobbiamo assolutamente dobbiamo cercare di professionalizzare sempre di più queste nostre esperienze proprio perché in questo momento anche diciamocelo di difficoltà a muoversi nel mostro nella voracità del neoliberismo contemporaneo avere degli strumenti di non controinformazione su questo sono assolutamente d'accordo ma di informazione che possono essere il punto di riferimento delle persone è importante perché le persone non è questo qui cerco di chiudere su questo concetto il fatto è che le persone devono o almeno questo è il nostro modo di ragionare di intendere il progetto di comunicazione una persona deve poter accendere radio onda d'urto la mattina e spegnerla la sera e là trova tutto quindi non facciamo controinformazione e anche sta anche lì la scelta se dico prima ragionamento su Radio Shared che è sempre stata differente tra le due radio di mettersi a disposizione anche di più voci di più punti di vista anche certe volte ovviamente Radio Onda D'urto è sempre stata espressione di una comunità politica di un soggetto politico della nostra città e del nostro territorio però a livello comunicativo ecco di mettersi sempre in quella posizione là perché l'idea è proprio quella cioè non facciamo controinformazione cerchiamo di fare informazione perché sugli organi mainstream quella roba lì in realtà secondo noi non si trova e quindi noi facciamo informazione la facciamo dandogli un taglio ovviamente nostro sulle nostre frequenze però le persone devono poter stare su Radio Onda D'urto e là trovare quello quello che succede nel mondo a 360 gradi grazie Michele è proprio la professionalizzazione è il come dire fare informazione che è una cosa che ci piace sempre sottolineare è qualcosa davvero di importante girerei la stessa domanda Carmen e poi si aggiungerà a ruota Antonio su come Sherwood dopo l'esperienza di Genova cambia si plasma anche rispetto a quelli che sono i tempi che cambiano sia da un punto di vista tecnologico ma anche di esperienza prima di andare a Genova già come Sherwood avevamo avuto delle esperienze internazionali ma tornando da Genova sono tante anche le esperienze internazionali che raccontiamo e proprio come poi la radio si trasforma seguendo anche un po' quelle che sono il passo dei tempi e quello che è oggi ed è il futuro allora cerco di essere un po' meno prolissa però non mi riesce bene Genova ovviamente dall'inizio agli anni è 2000 ed anche apre una nuova era questo lo ha fatto per tutti lo ha fatto anche per noi per cui da quell'esperienza che ricordiamo dopo solo due mesi inizia l'11 settembre quindi una fase storica ben precisa anche dal punto di vista di come la affronti e la aggredisci dal punto di vista di comunicazione noi facciamo la scelta ancora per un po' di anni di restare in FM però progressivamente la nostra progettualità diventa anche un'altra che è quella di offrire lo strumento radio a quelle che sono delle realtà che nel frattempo stavamo anche sostenendo informando come progetti una era quella di un progetto radio in Palestina dove da già da anni avevamo dei progetti di collaborazione di solidarietà e un'altra in Messico in Chiapas dove appunto tutti quanti ricorderete all'inizio degli anni 90 all'insurrezione zapatista e tutti gli strumenti che quell'insurrezione e le potenzialità gli strumenti di lettura anche su quello che era il futuro ci sono venute da lì per fare questo abbiamo creato proprio in loco degli studi radiofonici abbastanza empirici comunque l'abbiamo fatto e poi abbiamo fatto anche la scelta per un po' di anni di andare sul satellite nel senso che cominciavano anche ad esserci queste opportunità e fare in modo di poter essere sentiti ascoltati anche non soltanto con i limiti dell'FM perché purtroppo l'FM aveva il limite della territorialità e cominciare ad essere sentiti ad essere ascoltati anche il più possibile in Italia e in Europa questa esperienza è andata anche di pari passo con la necessità di dotarci di uno strumento di comunicazione di elaborazione e di scrittura che abbiamo chiamato Global Project questa capisco che possa essere pensato non come uno strumento radiofonico infatti Global Project non è uno strumento meramente radiofonico è uno strumento politico che ci ha dato la possibilità di confrontarci di avere delle possibilità di dialogare con altre esperienze in giro per l'Italia in giro per l'Europa sulle tematiche che appunto gli anni 2000 più che Genova hanno aperto perché appunto in Genova si parla di globalizzazione il movimento no global inizia già con Siatole eccetera di Zapatismo si comincia a parlare dei movimenti dell'Aberica Latina le questioni di genere eccetera global ci ha dato e ci dà tuttora pur con mille difficoltà ci dà tuttora la possibilità di usare un altro strumento diverso da quello radiofonico per la comunicazione per il confronto e per fare attività politica verso in quel decennio che segue a Genova noi facciamo anche la scelta di smettere l'FM di passare sulla web radio di cominciare ad esplorare altri territori altri linguaggi comunicativi di cui adesso parlerà Antonio guardate siamo siamo veramente in conclusione quindi io mi inserisco in questo dibattito ma prendo in prestito alcune cose che avete detto che mi sembrano estremamente interessanti e parto da una perché secondo me bisogna sottolinearlo l'indipendenza e a volte dobbiamo anche interrogarci che cos'è l'indipendenza questo è un festival indipendente Radio Onda Durte è un festival indipendente lo facciamo per autofinanziarci poi ovviamente chi di noi ci riesce perché non è facile non è detto che riusciamo a farlo accediamo anche a finanziamenti pubblici bene l'indipendenza non è un feticcio è una necessità lo stiamo vedendo in questi giorni lo stiamo vedendo in questi giorni in cui la narrazione su quello che è stato negli ultimi vent'anni l'evento politico più mediatizzato è una narrazione che si basa sul marketing questa è una cosa che dobbiamo dircela oggi c'era un'intervista fatta da Carmen scusate l'autocitazione su Fanpage che diceva guardate se non ci fossero stati i media indipendenti probabilmente Genova avrebbe avuto un'altra narrazione ed è vero questa cosa vale ancora di più dopo vent'anni è importante questa cosa io faccio due esempi i domeni probabilmente se non ci fossimo stati noi non noi come radio come global come melting pot ma noi come comunità politica che abbiamo saputo narrare quella cosa probabilmente i di domeni non si sapeva niente o quantomeno sarebbe venuta fuori una narrazione completamente sbagliata completamente esausta anche questo è un esempio il secondo esempio che voglio fare riguarda i mesi passati in cui c'è stato un dibattito assurdo assurdo sul mainstream tra chi come dire inneggiava al neoliberismo al continuare apriamo tutto continuiamo la produzione e chi invece voleva chiudere tutto per sempre bene questa cosa se non ci fossero stati i media indipendenti le radio chi fa video chi continua a scrivere global project l'hai citato è uno dei tanti media che comunque hanno provato a fare transmedialità bene probabilmente saremmo stati schiavi di quella narrazione quindi l'indipendenza non è un feticcio ma è una necessità politica mi piaceva una cosa che diceva Dario prima fare radio è un atto politico fare radio è anche una cosa molto suggestiva sono d'accordo con quello che diceva Sgab perché ti costringe anche a riflettere perché il video è uno strumento immediato però noi qua ci stiamo confrontando abbiamo fatto anche scelte diverse io rispetto molto è stato molto bello quello che ha fatto la di onda d'urto durante la pandemia e credo che le assemblee radiofoniche siano state uno strumento non solo per narrare la pandemia ma anche per aggregare per costruire ipotesi politica Sgab prima parlava dei primi podcast delle prime narrazioni di radio sonar rispetto a non una di meno bene abbiamo fatto scelte diverse però io credo che il punto della questione è questo saper intrecciare saperci confrontare spero che non lo faremo tra altri dieci anni al trentennale di Genova e saperlo fare però tenendo dritto questo punto cioè il fatto che l'indipendenza non è un feticcio è una necessità politica è una necessità culturale vado a chiudere c'è una cosa che a mio avviso in questo momento è importante e non voglio fare assolutamente propaganda però per la scelta una delle scelte che abbiamo fatto in questi anni in questi tra l'altro nei mesi di pandemia è stata Gemini anche quello non è un feticcio fare rete è una cosa importante in questo momento è importante perché l'abbiamo visto con i podcast Intesa San Paolo ha pubblicizzato in questi mesi il fatto che possiamo fare podcast con Intesa San Paolo possiamo dire delle cose è facile fare un podcast adesso la cosa difficile è farlo all'interno di una comunità dicendo delle cose costruendo immaginari provando a organizzare attraverso la comunicazione provando a organizzare la comunità questa è una cosa importante e credo che la sfida di adesso sia proprio questa sia riuscire attraverso i nostri strumenti che sono variegati sono transmediali non lo so non lo so questa è una sfida che stiamo per affrontare magari ci porteremo avanti nei prossimi vent'anni ma è una sfida reale concreta che non riguarda solo come si comunica e come si narra ma riguarda il modo in cui noi vogliamo cambiare questa società grazie Antonio per le conclusioni che mi hai rubato no scherzo direi che il dibattito di stasera è stato davvero molto interessante e oltre a raccontare raccontarci quello quella che è stata l'esperienza delle varie realtà radiofoniche in questi anni ci ha dato anche tanti spunti per il presente e soprattutto per il futuro con tante e tanti di noi che siamo qui presenti abbiamo anche la fortuna di confrontarci quasi settimanalmente anche in maniera accesa e accalorata per cercare di capire qual è anche il modo giusto di fare comunicazione oggi di essere al passo con i tempi ma di non snaturare quello che è il nostro essere domani ci sarà l'ultimo appuntamento su Genova domani è altra giornata come dire particolare da un punto di vista del ricordo domani affronteremo Genova da un punto di vista più storico come Open Memory ci siamo appunto tanto confrontato sulla storicizzazione di un evento come quello di Genova lo faremo con Gabriele Proglio che è un docente universitario di Torino che è proprio scritto un libro sulla storia orale rispetto a Genova e lo faremo con Filofat sarà un dibattito dal titolo Genova vent'anni dopo una storiografia contesa io ringrazio tutte e tutti che ci hanno ascoltato da Sherwood e da Gemini Network ringrazio gli ospiti e le ospiti che sono state qui con noi questa sera ringrazio chi ci ha ascoltato tra pochissimi minuti il tempo di un attimino sistemare qua la situazione è una birra soprattutto ci sarà il secondo dibattito dal titolo diritti d'autore proprietà intellettuale quale libertà per la comunicazione indipendente grazie ciao a tutti e tutti e tutti